Cosa ti ha portato a raccontare la storia di un serial killer e di questo tipo così particolare di serial killer così autoconsapevole? Avevo voglia di raccontare la storia di un serial killer consapevole di essa, no? E quindi un serial killer che si difende da un mondo di normali. Un serial killer è uno psicopatico criminale. Il mio psicopatico è uno invece che negli anni ha imparato a capire i normali, a capire se stesso e ad adattarsi. Questo perché mi interessava avere un personaggio in grado di muoversi agilmente nella società. Perché il vero compito, cioè il vero compito che mi sono preposto in questa scrittura è quello di raccontare la relazione tra psicopatia e società. Perché secondo me questa società non ha capito a fondo il problema della psicopatia. E Pietro Sambo come nasce? Mi piace anche il fatto che noi seguiamo la sua quotidianità, quello che mangia, quello che fa. È molto bello che ci sia questa dimensione anche domestica nel libro. Sì, perché lui è un personaggio stropicciato dalla vita, che ha commesso un, voglio dire, un reato più per stupidità che per altro, però che l'ha portato a essere espulso dalla polizia. E lui non sa più fare i conti con la propria esistenza. E quindi si aggrappa anche a queste piccole cose che noi poi, come, che i lettori poi seguono nel romanzo, ma perché cerca di trovare una nuova rotta all'interno della propria esistenza. E fa fatica. Fa fatica anche se vede, intravede nella caccia al turista la possibilità di rientrare dalla finestra nel mondo della polizia. Perché lui di fatto rimane un poliziotto bravo, ha anche un certo concetto dello Stato, spesso litiga con gli altri che dello Stato hanno un concetto molto diverso, soprattutto sul piano della legalità, però è anche lui, come è stata la storia della psicopatia, è vittima di questa manipolazione. Qual è l'anima noir di Venezia? Venezia, storicamente, è la città delle spie, la città del tradimento. La Repubblica di Venezia ha sistematicamente tradito i propri alleati. è una città della corruzione, il più grande scandalo italiano che è lo scandalo del Mose è caduto proprio a Venezia. Insomma, Venezia ha tutte le caratteristiche regole, potrebbe essere la città giusta per ambientare una storia di questo tipo. Mi piace la cosa che un serial killer, un cattivo, abbia l'ossessione delle borse, delle borse da donna. Come ti è venuta questa idea? Confesso che mi è venuta per disperazione, perché analizzando tutti i romanzi scritti, i film, le serie televisive, ero rimasto a secco di fetici, anche di parte anatomica, era già stato usato tutto dagli altri autori, e quindi sono andato a frugare nei saggi che parlavano di serial killer, e alla fine ho trovato uno, un serial killer americano che è stato catturato al quarto omicidio, che aveva questo vizio delle borse. E mi è piaciuta anche la motivazione, nel senso che lui frugando nelle borse delle vittime, cercava in qualche modo di saccheggiare l'esistenza di queste donne. E' la motivazione che ho ripreso proprio per il turista. Come ci si prepara in borse? Che lavoro c'è stato? Allora, innanzitutto ho chiesto a mia mogna, che mi ha detto, arrangiati. E allora ho cominciato a martirizzare una serie di commercianti. Entravo in questi negozi e dicevo, scusi ma come si fa a riconoscere se una borsa è bella? No? Loro mi guardavano e dicevano, ma la devo comprare? No, devo capire. Allora sono entrato, ho cominciato, alla fine sono finito nel laboratorio, ho visitato, mi sono di città in città, sono andato nelle fabbriche, proprio nel laboratorio, ho conosciuto la gente che li faceva, perché dovevo scoprire soprattutto i segreti dell'interno, delle fodere, delle tasche, perché era proprio l'obiettivo del turista andare a frugare. Allora alla fine, insomma, sono riuscito dopo qualche mese a orientarmi. È il caso a governare le nostre vite, quindi come sliding doors, se entriamo in una stanza, se incontriamo una persona, oppure in fondo il nostro destino è già scritto? No, no, io credo che il caso giochi una grande partita, almeno noi giochiamo una grande partita. Io ho introdotto il caso in questo romanzo, perché il romanzo poliziesco è la negazione dell'esistenza del caso. Si dice sempre, non può essere un caso che, o non esistono le coincidenze, invece esistono. Esistono nella realtà e secondo me era giusto giocare anche con il caso. E il caso, anche il più perfetto dei piani, può essere sconvolto dal caso. Il fatto di inventare storie, personaggi, di costruire trame, intrighi, come influenza la tua percezione della realtà, anche un incontro con una persona, oppure la tua quotidianità? È come se guardassi la realtà attraverso il microscopio? In realtà il crimine, raccontare del crimine, occuparmi di crimine, perché io ho sempre questa forte relazione con la realtà, per cui le mie storie taggono spunto dalla realtà, poi si mesclano alla finzione romanzesca e diventano romanzo. Per me il crimine è il buco dell'asserratura attraverso cui osservo la società.